In questo momento di pandemia non c'è purtroppo sosta per il lavoro delle forze dell'ordine a volte costrette ad intervenire su avvenimenti che sfiorano l'assurdo. È quanto accaduto nel pomeriggio di martedì all'esterno di un supermercato alle periferia nord della città di Arezzo. La squadra mobile della questura di Arezzo è dovuta intervenire a seguito di un diverbio tra una guardia giurata che si trovava all'esterno dell'esercizio commerciale e due clienti. La discussione è nata per il mancato rispetto da parte dei due avventori di origini rumene di alcune procedure per il contenimento dei contagi. Al termine del diverbio i due di 19 e 29 anni hanno minacciato di morte la guardia giurata e dopo essersi allontanati a bordo di un'auto sono tornati nel parcheggio del supermercato puntando contro il vigilantes una pistola mitragliatrice. Gli accertamenti della squadra mobile hanno permesso di risalire alla targa dell'auto su cui si erano allontanati i due e quindi alla loro abitazione. All'interno di questa è stata ritrovata l'arma rivelatasi una fedele riproduzione giocattolo della pistola mitragliatrice di fabbricazione cieca Scorpion ed utilizzata dai due rumeni per la pratica del soft air. I due rumeni incensurati sono stati denunciati per minacce aggravate.